Abbiamo iniziato questo progetto in due, oggi siamo in quattro, prima facevamo brani un po' più tranquilli, concepiti per due chitarre acustiche, ma l'istinto era sempre quello di sfogarci in delle robe un po' più adrenaliniche. Io sono l'ultimo compagno di viaggio, sono arrivato tre anni fa e dal mio ingresso nel gruppo sono cambiate un po' di cose nel senso di traduzione. Stava uscendo, è uscito due giorni fa uno split in 12 pollici in vinile con una band torinese che si chiama Lame e da questo split è stato estratto un singolo e il videoclip di questo singolo lo abbiamo girato proprio sotto casa nostra, c'era Tue Pignataro alla Maranella in realtà, per la regia di Sebastiano Saro Greco che è qui con noi oggi pomeriggio. L'idea quella di base di ambientare un videoclip a Tropignataro che è anche il mio quartiere, quindi anche questa è la cosa bella, che abbiamo casa e bottega al tempo stesso, è una cosa che mi ha preso subito e la prima cosa che mi hanno detto è abbiamo tot ballerine e da lì abbiamo cominciato. Ok, cosa possiamo fare con tot ballerine in un quartiere che è a maggioranza, diciamo, indiana a Bangla, facciamo un video che comunque possa andare un attimo a far ricordare con i colori e quasi con gli odori che il video stesso può far sentire quello che può essere che non è in realtà tanto distante ma quanto vicino. Facciamo un viso e tutti qua, dai ciò che你們 click Each Year! Questa è un'altra Johanna, così posso sommare! Questa sono una grogHere! E questo è, ecco qua! Comenziamo uno dei nostri cavalli di battaglia che si chiama 1945, che è una canzone dell'inizio a cui siamo molto legati, molto affezionati, ma che anche si presta in questa chiara un po' basket diciamo. La sabbia della magia, la magia della magia. When I can betto, remember my first date, extreme fate I say, that's what I say, that's what I say. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti